Come già detto in apertura e come vi abbiamo mostrato nel primo servizio, la neonata associazione a carattere culturale 30200 si occupa di incontri con l'autore ma non solo, si occupa anche di musica e di altri eventi a carattere artistico. Ne sa qualche cosa il presidente Guido Beretta che ci sta per presentare in anteprima a Night and Day un tour davvero particolare che metterà insieme due realtà bellunesi, non voglio che Clara e Suspectra, insieme ad un gruppo bolognese di fama davvero nazionale, i famosi Comaneci. Questo tour toccherà alcune date nel bellunese ed altre in località e in luoghi davvero particolari della regione Veneto. Sarò telegrafico. 30200, associazione a indirizzo musicale, presenta Triptych Tour. Stop. Non voglio che Clara, Comaneci, Suspectra, in concerto. Stop. Non voglio che Clara. Dopo due anni di silenzio tornano sul palco per presentare alcune anticipazioni del loro nuovo long plane. Stop. Comaneci presentano in concerto You All Eye, il loro nuovo album, una voce incantevole e atmosfere rarefatte. Stop. Su Spectra, un nuovo suono sintetico dove voce e chitarra elettronica si fondono a dare ancora maggiore emozione a testi incisivi e sempre inconsueti. Stop. Le date. Per informazioni www.30200.it Stop.